Adesso continua sempre, cerca di trovare l'abilia più facile sul campo, qual è se non è più facile? Perfetto. Adesso hai fatto un buon tiro ma non hai curato l'uscita, cioè non hai pensato a dove dovevi andare, hai solo pensato a fare l'abilia. L'inizio può anche andare bene ma alla lunga bisogna cominciare a pensare anche all'uscita. Ora provo a tirare la gialla e vediamo che succede, forse è la più facile credo. Bravissimo, anche se con questa stecca siamo andati un po' a pesca. Ricordi sempre la stecca, lascia la sua linea. Ora studia un po', forse sarebbe meglio la 13 però. Ti spiego. Ti facendo la 13 vai qui e ti diventa molto difficile. Facendo la 13... ... ... ... Diciamo buona rimbucata, tocca la tecnicità. Però... ... 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